Dove portarla verso il basso, d'accordo? Perché se io faccio questo, la tendo su, e non ha più le gare, quindi non può cadere. E adesso ci avviciniamo soltanto, un piede al centro, in questo caso facendo a sinistra, un piede al centro, gomiti vicini, il suo gomito è attaccato al suo piano. Il bavero è al centro del suo peso, d'accordo? Questo, questo, vicino, pancia contro pancia, questo, ok, i gomiti sono vicini, ma sono ben alzati, giù, pancia contro pancia. Faccio solo questo, 10 a testa, io passo a guardare. Dovete aver paura di stare vicino a lei, d'accordo? Spingere il piede, si deve trovare tutte le voce, su questa posizione, ok, col petto, se succede questo, va bene, se non può cadere in piedi, finito, vieni da qua, ogni volta, avvicini, vieni, avvicini, gomiti vicini, sul tuo metto, sul tuo gomito, spiagno, mi avvicino, la destra, guarda, 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 vola, vedo di lì, d'accordo? Ok? Tire bene le gambe, facciamo ancora, due volte, 20 a testa, guarda, mi avvicino, spingo il dietro da parte, a community, prima la quarta, sappiamo, va, qua, si deve, Где ci或 closedé, una consigna, qui tutte, iong lavorare o più grande. Grazie.